Arredamenti Loponte, dal 1953, la passione di arredare. Arredamenti Loponte assiste i propri clienti dalla scelta degli arredi con la loro giusta ambientazione e progettazione fino alla consegna e al montaggio, effettuati con la massima accuratezza e professionalità. Ampio showroom di camere da letto, camerette, cucine, pareti attrezzate e imbottiti. Nuove soluzioni per il tuo ufficio. Arredamenti Loponte è a Taranto, in via Verdi 21 27 099 47 11 308.